Risorsa, formazione, software. Internet offre sempre più risorse sfruttabili anche in campo educativo. Molti siti informativi e scientifici sono accessibili gratuitamente e possono essere mediati o utilmente dall'insegnante per non parlare delle risorse in campi come l'arte e la tecnologia. Si pensa al possibile utilizzo per l'apprendimento delle lingue straniere. Inoltre crescono anche siti appositamente studiati per i ragazzi all'insegna dell'intrattenimento ma anche della formazione. Inoltre il web può spesso essere considerato come risorsa formativa per lo stesso docente che trova siti istituzionali ma anche libere associazioni e personali pieni di materiale, di riflessioni, di esperienze. La lingua inglese aiuta ma si moltiplicano risorse anche in italiano.